Ciao, sono Chrissy Miki di Naio Nails. In questo video vi mostrerò come fare un design di San Valentino facile e veloce. Con i baci. Per questo design di San Valentino ho già applicato lo smalto semi permanente nel colore Snow White. Poi vado a prendere anche della vernice acrilica per unghia rossa. Andiamo a fare gli stampi dei baci come se fossero fatti con il rossetto. Andate ad usare letteralmente la punta del pennello per picchiettare e fare dei pallini più grossi e poi altri più piccoli. Volete che sia ben strutturato come lo stampo del rossetto. Fate la stessa cosa per il labbro inferiore. La cosa bella di questo design è che non deve essere perfetto perché lo stampo del rossetto non lo è. Voglio che cambiate la direzione di ogni stampo. Facciamo la stessa cosa qui. Andate solo a premere più forte se volete una linea più spessa e lunga. Usate letteralmente la punta del pennello. Potete farla in maniera molto random e fatene tanti quanti ne volete. Ne faccio ancora uno sulla punta in questo spazio. Siccome ho applicato il top coat su quest'unghia prima di andare a dipingere, posso sempre andare a sfregare via se faccio un errore. Qui invece vado a fare solo un labbro parziale. In pratica faccio solo il labbro inferiore. Serve davvero pochissima vernice sul pennello, il che significa anche che si asciugherà molto più in fretta. Adesso andiamo ad applicare il Mega Gloss. Questo design è così semplice e veloce che potete anche farlo solo su un'unghia, mentre le altre potreste farle completamente rosse. Quindi questa potrebbe essere l'unghia su cui la cliente vuole un po' più di design. Poi catalizziamo nella lampada LED per un minuto. Adesso andiamo a finire il design con dell'olio per cuticole. Massaggiamolo bene. Ed ecco a voi gli stampi di baci con rossetto finiti. Via e little